L'assessore al bilancio del Comune di Napoli, Salvatore Palma, stamattina durante la seduta del Consiglio Comunale, ha affermato che allo stato attuale la legge non consente di uscire dal piano di riequilibrio prima del 2022. È stato uno dei passaggi della sua relazione introduttiva in merito alla riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale, con la quale l'assessore ha anche spiegato che il disavanzo oggi ammonta a 205 milioni di euro, una cifra che da sola consentirebbe già di poter uscire dal piano di riequilibrio entro due anni, mentre invece la legge ne impone altri sei e di conseguenza non è possibile ridurre le aliquote a meno che non si riesca a lavorare con i ministeri competenti per superare il predissesto, circostanza sulla quale si è già all'opera. Questo accade perché oggi la norma è diventata ancora più invasiva, sostiene Palma, rispetto a quella del decreto 174.